Ma raga la playstation è spenta Ma la play è spenta Guardalo Ma si è fermato? Guarda come gira Guardalo Lo scaricherò prima o poi Spero No vabbè questo è incredibile Guardalo Ma esplode Ma io ho paura Questo esplode Ma pum Sentilo Guarda come gira Guarda come gira E da mano ti vede più Ma sentilo Già il stick Possibile Non si vede molto che c'è il nostro Non c'è il nostro Ma cosa cazzo è successo Ma Eppure ora che ha acceso la play Oh perché entri nel mio account Sentilo Ma dai Ma non si spegne più Guardate raga Ma Nooo Lo spero Sennò ci devo tenere il cotì per il resto della nostra vita Ma posso? Guardate 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 Non sono troppo brutti Guardate come gira Noo guardalo 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 mi sento che il rumore sfaisce quindi sono mi sento tipo mio dio ho finito guarda come gira ma fa ridere un botto oh quanto sconfettiamo questo guardalo moscava un buco va nell'oltre tomba si è pure scaricata batteria nooo si scarica la batteria spegner la prima telefono fa questo questa è la prima batteria che è un giorno vuoi lo lanci dal balcone fochiamolo con un cuscino morirà la foto è in giro ha fatto il 360 360 360 360 il tetto svanisce il tetto svanisce il tetto svanisce ma guarda che cammina ma esplode e basta giocare a genshin pensa a spaccare sto cuco che andassà il tetto svanisce